Musica Dal traffico di droga all'avvessazione dei commercianti, dai rituali di indrangheta alle armi, durissimo colpo della DDA di Catanzaro al clan Rom bevi l'acqua, passa l'acqua, gli indagati sono 62. La squadra mobile di Crotone ha scoperto che il presunto scafista indagato nel naufragio di Cutro non è minorenne, gli atti trasmessi alla procura. Manifestazione stamattina davanti alla prefettura di Crotone per protestare contro il decreto Cutro per la gestione dei flussi migratori. L'Università della Calabria è in campo per la lotta ai tumori, c'è uno studio che mira all'individuazione di nuovi farmaci, a guidare il gruppo di lavoro c'è il professor Sebastiano Andò. Da oggi nel Consiglio regionale anche noi con l'Italia sarà ufficializzato il passaggio del consigliere Talerico con il partito di Lupi. Era stata chiusa nel 1979 dopo i lavori di ristrutturazione Civita recupera l'Andica a Filanda e la storia di un'azienda nata nel 1906. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro Tg, oggi di nuovo in primo piano abbiamo voluto lasciare questa importante operazione anti-indrangheta a Catanzaro. Il procuratore Gratteri ha parlato di un vero e proprio buco nero sulla città, sostanzialmente dal traffico di droga, la vessazione dei commercianti dai rituali di indrangheta, le armi, il durissimo colpo della direzione distrettuale antimafia della città capoluogo al Clam Rom. Gli indagati sono 62. Vediamo. Una lunga e complessa indagine, quella portata avanti dalla polizia e coordinata alla DDA di Catanzaro, che ha colpito la criminalità Rom della città capoluogo di Regione. 62 le persone arrestate nel corso del blitz scattato alle prime luci dell'alba. Associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsioni, detenzioni di armi sono tra le accuse contestate agli indagati. Nella rete degli inquirenti anche un agente della polizia penitenziaria. L'inchiesta è partita nel 2018 ma giaceva ad oltre un anno negli uffici GIP lenti a causa della carenza di personale. Ma le intaggini hanno consentito di documentare la scalata criminale dei Rom di Catanzaro. Dalle intercessioni telefoniche, telematiche e ambientali è emerso che questa organizzazione ha attuato dei riti di affiliazione esattamente come un locale di indrangheta. Nel corso delle attività investigative sono stati documentati dei veri e propri summit e il gruppo Rom di Catanzaro è passato dunque da mano d'opera al servizio delle cosche tradizionali a gruppo indipendente. Il salto di qualità viene fatto quando questi si sono resi conto a un certo punto di avere una forza tale da poterli portare addirittura a concordare un patto anche per mantenere i carcerati cioè con un indrangheta che salomonicamente a mio giudizio gestisce la criticità e non perde il controllo delle attività criminali perché parte degli introiti questo patto tra le altre cose stabiliva che parte degli introiti che comunque venivano conseguiti dall'organizzazione colpita oggi dalle due organizzazioni colpite oggi andava comunque alle cosche. L'organizzazione è stata inquadrata come clan Bevi l'acqua Passa l'acqua e sarebbero due le organizzazioni colpite. Ci sono stati effettivamente nel 2000 i famosi omicidi di Toro Seduto del 2015-2017 c'è stato forse un momento in cui c'è stato un contrasto, un tentativo di reprimere da parte dell'organizzazione tradizionale questo anelito diciamo di indipendenza come poi diciamo sia stato raggiunto invece un accordo diverso questo diciamo non lo sappiamo ma è probabile che sia stato alla fine un riconoscimento di convenienza ancora una volta da parte della drangheta diciamo di arrivare a un accordo piuttosto che continuare una guerra che attirava comunque l'attenzione. C'è inoltre la ribellione di alcuni imprenditori che non si sono piegati alle richieste estorsive ma che hanno denunciato. Questo ci ha consentito quindi di dare un nuovo impulso, una nuova linfa anche alle stesse attività di indagine che poi hanno chiaramente, sono proseguite, si sono sviluppate con le attività tecniche che conseguenziarono. L'operazione odierna è stato sottolineato, ha consentito di liberare la città dalla cappa della criminalità Roma. Noi riteniamo di aver in gran parte liberato il centro storico fino a Catanzaro Lido di un'organizzazione che vendeva in modo sistematico la droga ai tossicodipendenti, che faceva estorsioni, che deteneva armi, che vessava commercianti, che vessava imprenditori. E ancora per la cronaca ci spostiamo a Crotone. Non è minorenne il presunto scafista del naufragio di Cutro. Lo ha scoperto la squadra mobile di Crotone. Ora gli atti passeranno alla procura. Vediamo. Non è minorenne ma avrebbe tra i 21 e i 22 anni il giovane indagato perché ritenuto uno degli scafisti che hanno condotto il caicco naufragato a steccato di Cutro il 26 febbraio scorso, provocando la morte accertata di 94 persone. Non ha meno di 17 anni dunque, come aveva dichiarato al momento del suo fermo, probabilmente per ottenere una misura meno afflittiva. Una novità venuta fuori questa mattina in apertura dell'udienza per l'incidente probiatorio in corso al Tribunale dei minorenni di Catanzaro. Il pubblico ministero ha presentato la documentazione prodotta dalla squadra mobile di Crotone dalla quale emerge che il 17enne indagato sarebbe in realtà un maggiorenne. Gli atti sono stati così trasmessi alla procura di Crotone, dove proprio ieri è iniziato davanti al GIP l'incidente probatorio. Una novità che ha sorpreso anche il difensore del ragazzo, l'avvocato Salvatore Perri, il quale ha tuttavia sottolineato che dal punto di vista processuale non cambia nulla. A questo punto alla prossima udienza dell'incidente probatorio a Crotone, fissata per il prossimo 26 aprile, parteciperà anche il giovane. In aula ci saranno altre testimonianze da parte di alcuni sopravvissuti al drammatico naufragio che sono ancora reperibili in Italia. Per le altre udienze invece i testimoni che si trovano in Germania verranno ascoltati in videoconferenza. Decreto legge sui migranti, il cosiddetto decreto cutro. Le associazioni sono scese in piazza a Crotone, il sit-in dinanzi alla prefettura. Vediamo. Mentre in queste ore la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha ripreso l'esame e il voto degli emendamenti al decreto cutro, in Commissione Ambiente si è svolta l'audizione informale dell'ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera sulle attività maritme e portuali. In tante piazze del nostro paese si sono svolti i sit-in di protesta contro il decreto cutro e sulla gestione dei flussi migratori. Anche a Crotone, in questi mesi al centro dell'attenzione dopo il tragico naufragio, in tanti hanno protestato davanti la prefettura perché dicono il decreto prevede condizioni peggiorative della condizione giuridica degli stranieri che arrivano nel nostro paese. La protezione speciale abolita non serve a niente, soltanto fumo negli occhi, è uno spot. costruirà con la possibilità di commissariare i centri di accoglienza e riassegnare senza bando di gara quello che noi abbiamo già vissuto con l'emergenza Nord Africa e c'è una serie di prenditori che utilizzeranno questi soldi per fare cassa e abbandonare i migranti e anche le popolazioni in cui risiedono quei centri ovviamente di accoglienza. Dopo la strage di Cutro, perché di strage si è trattata, ci aspettavamo ben altro dal nostro governo, questo non solo non è avvenuto ma si torna indietro, si costruiscono fantasmi e si butta nella impossibilità di essere cittadini reali da parte dei migranti, si costruiscono ulteriori clandestini che resteranno sul nostro territorio e saranno ovviamente nelle mani della criminalità organizzata o dei caporali che li utilizzeranno, continueranno a utilizzarli sfruttandoli sul lavoro nei campi. Associazioni, semplici cittadini e movimenti in piazza per chiedere al Parlamento di bocciare questo provvedimento e al Governo di modificare radicalmente gli interventi messi in atto. Un decreto che porta il nome di decreto Cutro che in realtà non solo non aiuta il nostro territorio ma come dire peggiora ulteriormente le condizioni per i migranti, per le popolazioni locali e per le strutture che devono ovviamente stanno cercando di gestire in solitudine e con estrema difficoltà l'accoglienza nella nostra realtà. Questo è quello che abbiamo realizzato stamattina, quando avremo la possibilità di incontrare il prefetto, ribadiremo questo e proveremo a costruire un tavolo, quantomeno di carattere provinciale, per affrontare tutte le nostre questioni in accordo ovviamente sempre con il tavolo asilo nazionale. Ancora un'automobile incendiata da Mantea, si tratta del quarto caso negli ultimi mesi. In città scatta l'allarme e il sindaco Vincenzo Pellegrino attende l'esito delle indagini, chiede però dei rinforzi, vediamo. Non è il primo veicolo che va in fiamme, non è dunque un caso isolato, ancora un'auto bruciata da Mantea, centro del Tirreno Cosentino, almeno la quarta nelle ultime settimane. Per quanto concerne quest'ultimo episodio, ad essere presa di mira è l'auto del figlio di un ex sindaco e ci sarebbe anche un testimone che avrebbe segnalato la presenza di un giovane incappucciato che sarebbe avvicinato all'auto versando liquido infiammabile. Un nuovo episodio dunque che fa scattare l'allarme in città ed ovviamente le indagini sono in corso. Certamente ripetersi di questi fenomeni, di questi eventi non lasciano molto spazio alla tranquillità, però da questo concludere che la città è in preda a chissà quale evento drammatico o in quale situazione è catarismatica, ne corde. Certamente noi attendiamo con estrema fiducia e con molta serenità il risultato di queste indagini che sono certo non tarderanno ad arrivare, dopodiché è chiaro che noi prenderemo le nostre compromisure. Di sicuro faccio un appello alle autorità competenti perché prendono in seria considerazione l'ipotesi di trasformare la locale stazione dei Carabinieri in tenenza dei Carabinieri in maniera tale che si possa avere un incremento del numero dei militari presenti e soprattutto per garantire poi successivamente il miglior controllo del territorio. Il primo cittadino dunque attende novità dalle indagini e chiede una presenza maggiore da parte delle forze dell'ordine. Intanto però, presto, un nuovo sistema di videoserveglianza potrebbe essere installato in città. Noi abbiamo già avviato la richiesta di un finanziamento per realizzare una videoserveglianza più accurata di tutto quanto la città. Speriamo che questi fondi possano arrivare nel più breve tempo possibile e che noi si possa realizzare tutta questa rete di videoserveglianza che sicuramente migliorerà il livello di controllo del territorio. Ora parliamo di eccellenze. Andiamo all'Università della Calabria dove il professor Sebastiano Andò è stato nominato coordinatore nazionale di un progetto innovativo che attraverso gli anticorpi monoclonali opera sul trattamento di due tipi di tumore di genere. Vediamo. C'è un nuovo studio da parte del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione dell'Unical sulle nuove molecole antitumorali in collaborazione con il Centro Oncologico di Aviano che ha permesso un'attività di ricerca finanziata con 7 milioni di euro. Questa nuova frontiera terapeutica è rappresentata dagli frammenti funzionali di anticorpi. Questi frammenti corrispondono alla regione dell'anticorpo monoclonale che regisce con l'antigene. E qual è il vantaggio rispetto all'anticorpo monoclonale da cui derivano? Anzitutto la minore dimensione che consente un accesso più rapido ai tessuti tumorali, la maggiore stabilità, la maggiore possibilità di coniugazione con un farmaco citotossico, l'assenza di glicosilazione che è quella che dà ipervariabilità alla molecola, ma anche immunogenicità, quindi contribuisce anche alla resistenza e poi soprattutto l'assenza di una regione che chiamiamo regione cristallizzabile che non consenta a queste molecole di legarsi alle cellule sane, per cui vi è anche una ridotta tossicità sistemica. Oggi una delegazione ministeriale visiterà i laboratori di Arcavacata e questo passo avanti rappresenta non solo un orgoglio per l'intera regione ma porterà anche un risparmio in termini economici. L'applicazione sperimentale si rivolge a due tumori di genere, il tumore mammario e il tumore ovarico e vede soprattutto un partenariato di eccellenza rappresentato dal Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione e dal prestigioso centro di riferimento oncologico nazionale che è il centro di Aviano. Vorrei anche sottolineare un altro aspetto importante, la scalabilità produttiva di queste molecole grazie alle tecnologie innovative adottate, quindi trasferimento nell'ambito industriale ed è il motivo per cui afferisce al progetto un partenariato industriale di alto profilo con esperienze consolidate nel settore biotecnologico e medicale del mezzogiorno. Quindi questo vuol dire che un progetto innovativo che parte dalla Calabria può radunare competenze e eccellenze scientifiche a livello nazionale, un ento nord e sud e quindi individuando anche nuovi network di interazione tra ricerca accademica e ricerca industriale per costruire insieme un nuovo ecosistema della ricerca e dell'innovazione che diventerà anche un fattore di crescita e di sviluppo per l'intero sistema paese. La politica adesso noi con l'Italia fa il suo ingresso in Consiglio regionale grazie all'adesione di Antonello Tallerico. A sancire il nuovo ingresso anche il presidente Maurizio Lupi che ha preso parte al coordinamento regionale che si è tenuto a Gizzeria. Vediamo. Con l'ingresso ufficiale di Antonello Tallerico noi con l'Italia entra in Consiglio regionale. Una nuova forza politica dunque entra nell'assise e il suo leader Maurizio Lupi intervenuto a Gizzeria al coordinamento regionale del partito ha voluto sottolineare il ruolo che può rivestire noi con l'Italia in questa fase strategica. La nostra presenza autorevole in Consiglio regionale diventa un elemento importantissimo per continuare ad aiutare il presidente Occhiuto a vincere la sfida delle sfide. Ricordo che abbiamo, ne parlavamo prima con l'avvocato Tallerico, abbiamo risorse da spendere, le sfide del PNRR, la sfida delle grandi infrastrutture in un paese come l'Italia e in una regione come la Calabria. Si ritorna a parlare del ponte sullo stretto, si ritorna a parlare dell'alta velocità. Altro tema di stringente attualità è quello dell'emigrazione, argomento caldo anche in Calabria per il quale Lupi auspica convergenza. Io credo che sul tema dell'emigrazione, sul tema del PNRR dovremmo essere tutti uniti, smetterla di fare polemiche inutili. È la sfida delle sfide, è una sfida epocale e questa sfida epocale la si vince, da una parte con la coscienza che Italia e Europa sono sulla stessa barca, devono difendere i confini non solo dell'Italia ma dell'Europa, che bisogna fare la lotta agli schiavisti della morte, che il tema è la sfida sul continente africano e il piano Mattei lanciato dalla Presidente del Consiglio Meloni va in quella direzione e dall'altra, questa è la nostra posizione, basta vedere gli ultimi dati, un decreto flussi che dica che in Italia si può venire e si deve venire a lavorare. Chiusura dedicata all'autonomia differenziata, una riforma che però deve mettere tutti nelle stesse condizioni. Mai aver paura di dare capacità ai comuni e alle regioni che sono gli enti più vicini ai cittadini di poter giocare la loro partita, il punto è metterli in grado di giocare la stessa partita e quindi metterli nelle stesse posizioni. Mi sembra che da questo punto di vista il Presidente Occhiuto sia stato molto chiaro e stia facendo un buon lavoro. Civita, ci spostiamo nel Pollino perché a Civita si recupera un'antica Filanda, una storia importante, cominciò il lavoro nel 1906 e funzionò fino al 1979. Insomma, una bella storia del secolo scorso. Vediamo. A due passi dal centro di Civita, proprio dinnanzi al canyon del Raganello, si trova l'opificio della famiglia Filardi che fu attivo dal 1906 al 1979. era azionato ad acqua da macchinari di fabbricazione tedesca che consentivano di cardare e filare la lana proveniente dalle greggi di tutta la zona. Nel 2010 la struttura è stata ristrutturata e trasformata in un ecomuseo di archeologia industriale a cui le immagini si riferiscono. Attualmente chiusa al pubblico, il prossimo 22 aprile verrà riconsegnata al Comune. Ci sarà la consegna da parte del commissario delle comunità montane, a seguito del regolare accordo sottoscritto con il Comune di Civita, dell'antica Filanda Filardi. È un'azione finalizzata ad un recupero di un'antica tradizione artigianale che a Civita, attraverso l'impegno della famiglia Filardi, aveva avuto ampio sviluppo nel corso dei secoli passati e credo che questa azione sia finalizzata innanzitutto ad un recupero culturale di un ricordo di un'attività imprenditoriale ed artigianale importante. A Corigliano Rossano, adesso dove il Chivanis, città degli Enotri, ha conferito a Gigi Miseferi il premio WeBuild. Vediamo. Ecco alcuni momenti della cerimonia di conferimento del premio WeBuild assegnato dal Chivanis Club Città degli Enotri all'attore, regista e cabarettista calabresi Gigi Miseferi. L'evento a Corigliano Rossano, alla presenza del governatore del distretto Italia San Marino, Salvatore Chianello. Il premio, intitolato a Franco Mignolo, è un riconoscimento ai calabresi che, con il loro lavoro, affermano il principio chivaniano WeBuild, ossia noi costruiamo, contribuendo a dare del territorio un'immagine positiva. Credo che la Calabria abbia bisogno di un'immagine nuova, rinnovata, di un'immagine in cui non ci sia più tanto spazio per i soliti discorsi che sentiamo, che ci addolorano, che ci fanno male, morti ammazzati, attività illegali, in Drancheta e quanto altro. Credo che Gigi Miseferi, col suo lavoro, sta portando avanti un'idea che dà la capacità di ridare un ruolo da protagonisti alla bellezza, alla creatività, ai beni materiali, a questo nostro mare e che possa così questo rilancio, grazie a personaggi come lui, che portano in giro la loro voce per la Calabria, possa ridare quell'entusiasmo per creare veramente turismo, per creare imprenditoria, là dove viviamo un'amarezza e un momento di crisi generale che è veramente troppo forte. Gigi Miseferi è un personaggio poliedrico conosciuto al grande pubblico sin dai tempi del Bagaglino che non ha mai dimenticato la sua terra d'origine e che della sua calabresità continua a farne motivo di vanto e di orcoglio. Grazie perché considerate me uno dei costruttori di quello che deve essere la Calabria fuori, tra l'altro veramente ho sempre sbandierato ai 420 la mia calabresità, la mia e del mio compianto fraterno collega Giacomo Battaglia, da sempre questa calabresità, questo DNA calabrese che ci ha concesso anche di essere ironici in modo particolare perché il calabrese è ironico per legittima difesa. Nasce qui la cultura, nasce in quest'area meravigliosa della Magna Grecia, nasce questa meravigliosa parola teatro nel luogo sacro, che era la parte anteriore del tempio, quindi insomma vedi come tutto torna. Per cui credo che ci si possa sdoganare da questo punto di vista, noi dobbiamo sempre sudare il doppio per dimostrare qualcosa, però se solo ricordassimo quello che di culturale abbiamo fornito alla storia di questa meravigliosa nazione, allora qualcuno si ricrederebbe ai nostri confronti, perché purtroppo esiste sempre il pregiudizio e veniamo sempre giudicati prima, noi non solo perché siamo calabresi, amen, va bene, quindi vorrei che la gente potesse conoscere prima il popolo calabrese, prima di giudicarlo. Andiamo ancora avanti, un concorso d'arte promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza, vediamo. La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato l'arte e il tessuto economico della provincia attraverso l'evento conclusivo del concorso Cosenza ritratto di un'economia d'autore, giunto alla seconda edizione. Noi abbiamo un patrimonio giacente qui in provincia di Cosenza, ma in generale in Calabria, che è assolutamente imponente, quindi abbiamo indetto questo concorso, cui hanno partecipato artisti, ma anche scuole, e i temi erano la produzione di opere d'arte che raffigurassero le eccellenze del nostro territorio, quindi intestate e intitolate a temi quali i quattro temi fondamentali dell'ente camerale, quindi l'industria, l'agricoltura, il commercio, l'artigianato, e hanno partecipato, abbiamo costituito una commissione di esperti, oggi scopriremo chi sono i vincitori. Al concorso, bandito dall'ente camerale a inizio 2020 e poi prorogato a causa della pandemia, hanno partecipato due categorie, studenti e artisti. Tre le sezioni premiate, scultura, pittura e fotografia. Da quest'anno è stata istituita un'ulteriore sezione dedicata ai RIL, i cui vincitori sono stati scelti dalla platea dei social. Nel corso della serata inaugurale, autorità, ospiti e visitatori hanno avuto modo di ammirare tutte le opere d'arte partecipanti al concorso, esposte nelle varie sale della Camera di Commercio. L'evento ha voluto raccontare una Calabria diversa, dando forza al legame fra arte, culture e attività d'impresa. Vogliamo raccontare la Calabria che noi vogliamo rappresentare, una Calabria diversa, la vera Calabria. Certamente c'è una Calabria che nessuno la può negare, ma non è il compito nostro. Fare tutto l'uno non lo vogliamo fare. Noi vogliamo rappresentare quelle imprese, la Calabria vera. Ci sono sia degli studenti, sia degli artisti che fanno onore al nostro territorio e con i loro occhi vedono la vera Calabria che è quella che noi vogliamo. Siamo abituati a questa bellezza e non ci rendiamo conto. Quando noi entriamo fuori dobbiamo vendereci il territorio. Il territorio non è soltanto l'impresa. E ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi. Grazie in regia Michele Cava, e messi in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi lasciamo alle notizie dalla Borsa e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Chiusura in territorio positivo per le borse europee nonostante l'andamento sottotono di Wall Street. A Milano il Fuzzi Mib ha chiuso le contrattazioni a più 0,7%, il Dax di Francoforte avanza dello 0,6%, l'Ibex 35 di Madrid e il Caccaranta di Parigi dello 0,5% e il Fuzzi 100 di Londra dello 0,4%. Oltreoceano il Dow Jones cede lo 0,3%, l'S&P 500 e il Nasdaq arretrano dello 0,2%. Sul fronte delle banche centrali, gli investitori tengono monitorate le dichiarazioni dei policy makers con il presidente della Federal Reserve di St. Louis che si è dichiarato favorevole ad ulteriori aumenti dei tassi per combattere l'inflazione. Sul fronte macro, l'agenda di oggi ha diffuso l'indice Zeu di aprile, crollato a 4,1 punti con il consensus a 15,6 dei 13 punti registrati a marzo, mentre a livello europeo l'omologo dato si è attestato a 6,4 punti in calo dei 10 punti della lettura precedente. Sul Forex, l'euro-dollaro viaggia a 1,096 e il dollaro-yen si attesta a 134. In rialzo il greggio, con il Brent a 0,3% a 85 dollari e il VTI a più 0,5 a 81,2 dollari. Sull'obbligazionario, il BTP Bund torna a 181 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,29%. Tornando a piazza affari, prilla ancora il settore bancario. Dopo i dati delle big bank statunitensi, con MPS a più 5,6%, Biper a più 4,1%, Banca Generali a più 2,3% e Unicredit a più 2,2%. Le vendite invece colpiscono soprattutto Leonardo a meno 1,8%, Erga a meno 1,6% e Saipem a meno 1,3%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight.